Oggi ho il piacere di annunciarvi che abbiamo istituito presso la Regione Calabria nel Comune di Rende una nostra sede territoriale. Per noi è strategica, è importante perché crediamo che dal sud possa provenire molta forza lavoro per quanto concerne l'attività in retta alla digitalizzazione e quindi ovviamente ci auguriamo che questa sede possa rappresentare per noi tutti un volante di crescita e di conoscenze. Siamo onorati di essere alla prima sede territoriale ad aprire per questa associazione, è un'occasione molto importante con umiltà di poter promuovere le competenze digitali e permettere di dare il nostro contributo in tal modo a ridurre un po' il gap che esiste tra questa terra e il mondo dell'innovazione. Anch'io oggi sono qui con tutti gli amici dell'associazione Italian Digital Revolution per festeggiare l'apertura di questa sede a Rende, diciamo per la Calabria. È un'esperienza importante perché come associazione abbiamo voluto creare questa rete di sedi territoriali partendo proprio dal sud, perché il sud nella rivoluzione digitale deve rappresentare una rivoluzione, una riduzione del gap nord-sud che può passare sicuramente dal digitale. Noi come associazione ci crediamo e abbiamo voluto proprio dare questo significato all'apertura della sede della Calabria perché crediamo che molti giovani del sud che oggi sono molto interessati a questa rivoluzione e possano dare un fattivo contributo allo sviluppo dell'intero paese partendo dal sud. Questa sera abbiamo inaugurato qui a Rende, in prigia di Cosenza, la sede dell'associazione Italian Digital Revolution. Per noi aziende partner dell'associazione è una grande opportunità avere sul territorio una sede di un'associazione che opera per lo sviluppo delle competenze digitali e per questo ringrazio tutti i soci e tutte le aziende partner che hanno collaborato all'apertura di questa sede. Oggi siamo a Cosenza per inaugurare la sede dell'associazione Italian Digital Revolution, una sede appunto importante perché la nostra associazione vuole partire dal sud e presto per anche altre nuove sedi a Milano e nelle Marche, un'iniziativa che ci permette di radicarsi nei territori e di avvicinarsi sempre di più alla gente. Ciao, siamo qua all'idecorazione della nuova sede dell'Italian Digital Revolution, qua a Rende e una sede importante sia per l'associazione che per noi aziende calabresi perché costituisce un punto di riferimento per l'associazione e per i contatti con gli altri associati. Grazie a tutti.